Ci sono anche due giovani calciatori chioggiotti, i centrocampisti Riccardo Boscolio Chio e Stefano Cester nell'Inter Under 16 che ieri sera Ravenna ha vinto il campionato italiano di categoria battendo per 3-0 in parietà della Juventus. Riccardo e Stefano sono sesi in campo dall'inizio il primo con il numero 4, il secondo con il numero 11, contribuendo in modo fattivo al successo nell'Azzurro. Un altro splendido traguardo per i due elementi di un vivaio che ha tinto a piene mani alla fertile scuola clodiense. Cester ha anche già debuttato nella nazionale Under 16 partecipando alle trasferte in Ucraina e in Ungheria.